Sarà una bella prova, specialmente con queste temperature, cercheremo di dare il massimo. Così il motociclista sul monese Cristian Micocero del Motoclub Abruzzo presenta il doppio appuntamento del prossimo fine settimana al Mugello per il quinto e sesto round del trofeo dall'Opacup classe 1000 con gara 1 sabato 6 luglio e gara 2 domenica 7. Dopo due secondi e due terzi posti nei quattro round fin qui disputati l'obiettivo rimane quello di ottenere il gradino più alto del podio. Primo posto che fino adesso hai sfiorato, arriverà prima o poi, è vero? Sì, l'obiettivo è il primo posto, anche se al Mugello sarà difficile perché è una pista dove io ancora non riesco a esprimere al massimo le mie potenzialità però io ce la metterò tutta, mi sono allenato tanto durante la pausa tra Vallelunga e appunto il Mugello quindi mi impegnerò al massimo, il livello è alto, so che c'è anche qualche wild card di prestigio che partecipa soltanto a questa gara quindi non fanno fede ai punti per il campionato però io appunto darò il massimo e cercheremo di portare la Coppa più grande a casa. Anche per dare soddisfazione ai tanti tifosi che così come a Vallelunga ti seguiranno anche in questa occasione, è vero? Sì, infatti, quello è stato anche a Vallelunga che ne erano veramente tanti è stata la forza che comunque quando ti giri e guardi mezza tribuna piena che comunque ti sostiene è bello verranno anche al Mugello e quindi di questa cosa sono contentissimo e appunto daremo il massimo anche per loro. Un bilancio delle gare fin qui disputate, come dicevamo anche in altre occasioni questo campionato sta andando nel migliore dei modi, forse qualcosina in più poteva essere fatto però alla vigilia te l'aspettavi prestazioni così? Sinceramente no perché il livello è forse un po' più alto dell'anno scorso i primi 6-7 sono gli stessi piloti però c'è stato l'ingremento di qualche altro pilota tipo Pedersoli che è venuto alla prima gara c'era anche Poggi quindi il campionato, il livello è alto di stare davanti a tutti sinceramente non me l'aspettavo però ormai ci crediamo e manca soltanto il gradino più alto perché finora abbiamo collezionato secondi e terzi posti e appunto manca il primo e farlo proprio al Mugello dove è la pista dove io non riesco ad andare proprio al 100% sarebbe il massimo. E ancora una volta dovrai sfidare il caldo soprattutto domenica con la gara che comincerà alle 13? Sì domenica sarà dura perché le qualifiche del sabato sono le 10 e mezza quindi fa abbastanza fresco gara 1 del sabato c'è alle 5 quindi anche lì non siamo nell'ora di punta mentre domenica all'1 e un quarto la partenza sarà dura quindi bisogna amministrare non scordarsi mai di respirare sulla moto e di mantenere le forze per gli ultimi giri perché penso proprio che questa gara si deciderà chi ha gli ultimi giri ne avrà di più fisicamente. Grazie Grazie